Un incontro con gli operatori 118 del Serbari, prima ancora gli appuntamenti con il Presidente Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e con i rappresentanti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro e degli Avvocati per un focus sul mondo delle professioni. Tutto dopo la serata di ieri al trampolino con simpatizzanti e rappresentanti istituzionali. Si conclude la due giorni barese per Matteo Salvini a Bari. L'ex ministro e leader della Lega è ripartito in mattinata per Cosenza per proseguire il lungo tour in attesa del voto del 25 settembre. Se il partito del Carroccio è riuscito a trovare la quadra con gli alleati, nonostante le note frizioni per gli equilibri di coalizione, l'approccio è tornato quello di attacco precedente alla grande tregua che aveva portato al governo Mario Draghi. Niente più mezze misure, un programma chiaro e attacchi diretti alla sinistra sia sul fronte nazionale che locale, con il governatore Michele Emiliano più volte bersaglio delle critiche. Una battuta poi è stata riservata a rischio astensionismo, il vero nemico di quel voto di protesta degli scontenti che il centro-destra spera di intercettare. Taglio delle tasse con la flat tax, pace fiscale, rottamazione del cartello di Equitalia, sicurezza e noi siamo la prova provata che il contrasto all'immigrazione clandestina e ai trafficanti di esseri umani si può fare, basta volerlo. Azzeramento della legge Fornero, che sarebbe una follia in un momento di crisi come questa, scuola per tutti senza più insegnanti o bambini allontanati dalle classi e chiusi in casa, quindi abbiamo ben chiara l'idea di taglia che abbiamo in testa anche nelle prossime ore, peraltro noi siamo al lavoro con il governo che è ancora in carica per rinnovare gli sconti sulle bollette di luce, gas, sulla benzina e sul diesel e per chiedere una rivalutazione immediata delle pensioni, perché il carrello della spesa soprattutto per chi ha di meno è sempre più pesante. Spero che gli alleati di Forza Italia e Fratelli Italia condividano firmando nero su bianco un programma che preveda queste priorità. Mi piacerebbe che gli italiani potessero votare anche il lunedì, visto che il 25 settembre sono probabilmente 40 gradi e tanta gente ancora al mare, limitare al voto solo la domenica con le scuole appena riaperte mi sembra un furto di democrazia, non vedo che problema ci sia estendere almeno a lunedì mattina un voto che è fondamentale, a meno che qualcuno non voglia che voti meno gente possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.